Con la parrocchia del quartiere Sanità abbiamo definito un accordo in collaborazione con il Comune di Napoli per sperimentare una forma diciamo aggiuntiva alla raccolta differenziata che viene fatta dalla società Asia e in particolare nel quartiere Sanità per un periodo pilota di sei mesi. Nel quartiere Sanità partirà presto un particolare servizio per la raccolta di carta e cartone protagonisti saranno i giovani del territorio legati alla parrocchia di Santa Maria di Don Antonio Loffredo che d'intesa con il Comieco in collaborazione con il Comune contribuiranno ad incrementare la raccolta di cartone prodotto da commercianti e artigiani del Rione. L'idea è stata oggetto di un protocollo d'intesa siglato questa mattina con l'assessore all'ambiente Tommaso Sodano ed a fianca al servizio già svolto da Asia all'impegno di una cooperativa di ragazzi che avranno anche il compito di coinvolgere la cittadinanza. La raccolta del materiale sarà ricompensata da un contributo economico che potrà essere reinvestito nel quartiere. La città ci interessa e ci appartiene. Il compito di tutti è quello di partecipare a renderla più bella. La sanità diciamo in questi anni si è visto come i giovani sono applicati al discorso della musica, al discorso del teatro, al discorso dell'arte, delle catacombe, del turismo. Cioè parlano un linguaggio nuovo. Penso che sia proprio dei giovani guardare oltre quello che abitualmente ci circonda. hanno gli occhi un po' più avanti forse e penso che nell'innovazione il riciclaggio occupa un posto importante e ci fa piacere sperimentarci anche in questo. Un'opportunità anche dal punto di vista dell'occupazione per quanto riguarda in particolare il settore giovanile. Naturalmente potremmo poi capire lo sviluppo futuro quando avremo i risultati che saranno ovviamente valutati congiuntamente con l'amministrazione comunale al termine del progetto pilota. La firma del protocollo è stata anche l'occasione per presentare i risultati delle Olimpiadi del Cartone, iniziativa rivolta ai commercianti della città che nel periodo natalizio hanno raccolto quasi 500 tonnellate di imballaggi cellulosici. Vincitrice della gara, con 78 tonnellate raccolte nella zona di Soccavo e Pianura, la nona municipalità presieduta da Maurizio Lizzi, che si aggiudica alla festa del riciclo, messa in palio da Comieco e prevista il primo giugno. Noi ce la stiamo mettendo tutta in questo periodo particolare, però fortunatamente c'è tanta voglia di gente che vuole essere cittadinanza attiva, quindi da questi quartieri periferici arrivano dei segnali molto confortanti. Dobbiamo fare ancora di più, perché io vedo ancora troppi cartoni in giro per la città, non solo a Napoli purtroppo, e quella è una sfida perché noi dobbiamo sottrarlo al rifiuto. Il cartone va recuperato, il cartone viene dalla cellulosa, viene dagli alberi, quindi più cartone recuperiamo meno alberi si abbattono, più cartone recuperiamo più risorse si possono liberare per potenziare la raccolta differenziata. Quindi diciamo che è un ciclo virtuoso che va attivato.